Dallo scorso Carnevale in poi versava in uno stato di degrado a causa dell'azione vandalica di qualche maleducato ed incivile personaggio. Mozziconi di sigarette, coriandoli, pezzi di legno, spazzatura, monete cartacce. È inimmaginabile la quantità di materiale che può passare attraverso un piccolo foro. Ci si deve mettere veramente d'impegno. Fatto sta che lo spettacolo per turisti e persone che volevano ammirarlo non era edificante anche perché dava un'immagine di degrado della città. Il bellissimo diorama che ripropone la planimetria medievale della città di Fano che fa Pandan con il suo gemello per il periodo romano che il Rotary di Fano ha donato alla città, ora sempre per opera dello stesso Rotary è ritornato al suo splendore. Anzi potremmo dire che ora è anche meglio. Rientrava nei nostri programmi del club Rotary di Fano dare una sistemata, una manutenzione per cui il Rotary Club ha tra le sue finalità quelle anche della valorizzazione dei beni culturali e quindi in questo anno abbiamo pensato di mettere in atto anche questa operazione. Abbiamo provveduto a spostarlo, ricondizionare quella che era la teca in vetro con le sue prese di areazione e nel pomeriggio di oggi probabilmente riusciremo a ricollocarlo nella corretta posizione e riconsegnarlo diciamo alla città. È stato infatti tutto ripulito, anche le parti metalliche che si erano ossidate, richiuse alcune parti mancanti che erano state sottratte appunto. Alle 15 di oggi la gru della ditta Pozzuoli che ha curato le opere edili ha sollevato il pesante basamento in granito e lo ha riposizionato nel suo alveo naturale ed ora il diorama farà bella mostra di sé ancora per molto tempo e le guide turistiche potranno orgogliosamente e mostrarlo ai visitatori della città, vandali permettendo naturalmente.